Ciao a tutti, oggi prepareremo le lasagne al radicchio, spec e taleggio. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e trenta minuti circa. Ingredienti sono lasagne fresche, taleggio tagliata a fette, radicchio tagliata all'istarelle, besciamella, spec tagliata all'istarelle, parmigiano grattugiato, aglio, olio, sale e pepe. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'aglio e ad azionare il bimbi per quattro minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale, aggiungere il radicchio, aggiungere il pepe, il sale, chiudere con il coperchio, inserire la spatola ed azionare il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1, spatolando. Il radicchio è pronto, eliminare il liquido di cottura e mettere da parte in una ciotola. Componiamo la lasagna, mettere sul fondo uno strato di besciamella, mettere le lasagne, un altro po' di besciamella, il radicchio, lo speck, il taleggio e il parmigiano. coprire con la lasagna e proseguire così per il resto degli ingredienti. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa. Le lasagne sono cotte, lasciare intiepidire prima di servire. Lasagna e radicchio, speck e taleggio. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!